buongiorno e buonanotte suonatori idee chiare e svelte l'ultima è che navalny sarebbe stato ucciso con un pugno e c'è possibile uccidere con un pugno si è possibilissimo pugno dato qua basta una pressione in un certo momento data qui e il cuore va in fibrillazione e si muore però non resta il livido e lo possono fare non è una firma lo può fare uno della cia uno delle mcx uno della sb uno dell'aisi qualsiasi persona che abbia lo posso fare anch'io qualsiasi persona che abbia un minimo di esperienza di arti marziali lo può fare non è complicato però non resta il livido e non resta neanche la serietà perché quello che sta succedendo intorno al drammatico episodio della morte di da mal da vanni è veramente dal mio punto di vista molto poco serio giornalisticamente mediaticamente ogni giorno cambiano versione allora vi dico io adesso qual è la vera versione della morte di navalni navalni è stato ucciso da uma truman turman che è uscita direttamente dal maxi schermo di kill bill numero due e con la mossa dei cinque punti ha ucciso navalni che ha fatto i cinque passi ed è caduto per terra stecchito vi arrabbierete vi sembra cinica questa cosa no è che sono stufo di sentire cazzate buona giornata